Bene, abbiamo il video del consiglio pubblicitario del studio di Tele-G, la televisione dei Tattari, una bella televisione, sinceramente vedendo tanto che a Tele-G non chiede in tutto su un mondo in treo, su delle giornali di Camuso, Luvac Valeria, bravissima, le dà un abbraccio e le 30 mani di ogni dia, su delle giornali su cui succedi e su un cosa bella, sinceramente però devi dare a fare www.telegi.tv e non chiede in tutto su un mondo in treo, se parte su una persona e ora telefonate da una mia baida in Tattari, su delle giornali, su delle basarda, tutti questi due, da esa a sazzetta, buona il braccio con due le 30 mani, sinceramente è sempre puntuale, come ti ha fatto a dire, perché ti vedendo tanto, per la sua tutta la salda, e devo dare a tutti, a me non mi chiede, io ti chiedo, pure tu non ti chiedo, però la se mi fai sul giro, capite, va paziente che è bene, sulla povertessa non ti va mai mancare, e sono sempre a cambio, sinceramente, su quanto sardo, perché le scantatori su una mela, coroso, tenores, uno va che tutto, teoneva tutto, piano piano, in due mesi è venuto a battere, in questo mese è venuto a chimbe di serata, capite, sono chimbe, in due mesi però venuto a battere, in questo mese è venuto a battere, come la ha posizionato 30 d'ora, poi queste successe, e se vado a una cosa, tu lo potranno all'espurro, capite, se sono impegnato, che non potete, che sopportenze in una serata, danno a mano, e se ti mando a Bai di Noche, e mando a Giovanna Maria Mera, è una cosa bella, sinceramente, o un altro canto sardo, o un altro poeta, insomma, sulla trasmissione, dovete andare sempre a Dainan, bene, e beh, che la chiedete, bene, a me leggi una trabosia Giovanna, sì, a me le diciamo con più, con un altro sistema, terra mia, verda di caddura, terra mia, bella di caddura, che c'è questa caddura, intendiamo, non posso fanno a manco di cantarti, terra mia, verda di caddura, non posso fanno a manco, e o da matti, dali monti, agli mari, e alla natura, maragliosa se tu, e la tua villessa, in canto, di cassesia, che ti idi, immediato, trasmetti con t'intesa, di gudissi, litologhi, e litolidi, maragliosa, e troppo poco, in prima era, fantastica, in montagna, e la pianura, di fiori e di colori, pinta e piena, terra mia, verda di caddura, cattilassa, anda, tristo e ammalagana, e li manca la toluzia, e lo tosoli, se senti un animalo, e la tana, con tanta nostalgia, e lusogori, non posso dalle tolto, terra mia, mi innamorigli, un disisi agarreo, d'ogna pezzo, mi commuovi, ancora crea, e la più diciosa di caddura, mi sento io, bravo, che è una cosa bella, sinceramente, questa è la tua, non la devi disprezzare mai, la devi mantenere sempre in urbino, e cagliati a fare, che tento io, e beh, in casa d'oltre, mi sentiamo, per la nostra, per la Saldigna, devo essere sopra la Saldigna, pure, nasce pure per la Saldigna, ma, va bene, questa terra tua, scusa, in Badese, in un'estudio, su cosa bella, l'ugoduristico, ma è davvero, e, a Vali, insomma, l'ugoduristico è presentato, e poi, va parlando, con un gruppo, forcolistico al Medico, su Stumesal, domenica, si, 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 e Angelo, bene a Pagamela, il vertoso, l'organetto, Angelo Nelio, si, bene a Pagamela, bene Giovanni, se scherchene, lei è a Rio, tanto è un total bella, tutti belli saranno, è tanto, se non sta scherchene, no, c'era una, che era più, come te, ecco, è tanto, la degussa, a Badesi d'Austo, perché i Badesi, non li abbiamo diventati, eh, abbiamo dei pacconi, in tutto il mondo, eh, beh, certo, e poi, come ti chiedono in tutto, eh, ti infedono in tutti i posti, sì, beh, a me mi interessa, che i Badesi, eh, sì, ma dei Badesi, però, dei Badesi, ma dite bene, che sono fuori, pure, sì, 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 è tanto, a Luizia, a Luizia, quando Maria de Mela, eh, eh, andate bene, a Badesi d'Austo, a Badesi, lo turista di Statiali, veni pagodissi, soli e mari, e dopo, ben disposto palabenti, diventa amico caro, a medaglienti, Candarrea, l'incanta un panorama, maraglioso, da Castello alla Senara, e l'isola russa, il lì di Piucciari, incorniciata, dalle coste gossigane, sera, locce, alluzicate di Videsa, lugori all'alegato di passioni, poni affetto, con tanta contintesa, dicioso, di maraglia e emozioni, vivi un mare speciale di colori, d'unica pidesa, degli rari, la spiaglia, li trasmetti lo calore, e li teni tra la menti, li più cari, li volani, e passanli di, allegro di tutto lo che ha visto, s'ammuscia, è l'ora di partì, è in cori, e gli appensenti, a un'altaustu, a un'altra, a un'altra, a un'altra, a tornare, a un'altra, a tornare a ustu, a ustu, esatto, brava, brava, a ustu, è una cosa bella, mi dico, devo fare questa poesia, a ricca pulitevelo, però questa poesia, devo, sono deserata, eseratia, eh sì, devo non scrivere mai, caso scrivo il baglio, questa poesia, la devo lasciare, però sono improvvisato, questa poesia, deve andare su un momento, ah così, è estemporaneo, è un momento, non è facile, però è il baglio, e poi, vedete, ho fatto una poesia, la lascio a una parte, non la leggo, caso 2, se che sei fuori su tempo, ma tu la scrivi, sì, ma devi tornare, è un improvviso, che andrà più bene, sì, ho capito, è un'altra cosa, e poi ti lamenti, torna, senti come lamento, ma te deve andare su un momento, mi ha toccato, eh, mi ha toccato, però questa poesia, non c'è mai vendita, fatta prima, fatta dopo, lasciarla una parte, ma la sua poesia, ma tantamente, chi le minori, va a toccarla, la deve lasciare, come te nascite, eh, esatto, però una rene, poi uno lo mette a salire, eh, facci come te le pare, ma insomma, va a fare, potete finire la riscosta, capite, vedendo tanto, devi salutare a tutta, ma non sei minore, poi vedendo tanto, per la sua poesia, compresi ma, ma qua, si è finita, ma non è che la sua poesia, non fai leggere, perché non è che la sua poesia, mi dai noi, non mi finisci ancora, da qui, non hai un'altra minoreda, minoreda, se la volete, si, ma se non viene a cuo, e sta cosa bella, e poi, siccome chi si è andato a letto, vede la sua poesia, non è importante, qui sta per Giovanni Simola, che mi ha telefonato, Giovanni Simola, la sua poesia, resta a posto, Carlini si attacca, regola in domo, e ulteriori tirasi, grazie. Una minoreda è, minore, come te biscita, il testo, il testo, il testo, ma è pure più azzurta, ma è pure più azzurta, ma è pure azzurta, e non so, non so, il sestino, ah è, bene a sestino, il quartino, però, questa è più azzurta, perché l'anno è pure mezza prima, e dai, non teniamo la vita, dai, il ventaredo di mare, io ho la giulomare, che vede sempre, e beh, adesso il mare, a dove passano, mi pare che tu, la capitale, a cantare, da che mi intermetto, non dai, di un modo da sommare, eeeh, perché dai, non è sti più azzurta, due chilometri, ma, ma, vabbè, ma la dottore, però, linea l'aria, è fatta, vabbè, ventaredo di mare, chitti pesi, liceri, carignendi, disici, e bulendi, pensieri, allongo, ti posti, pisanti, pinnicchi, e paraoli, mai ditti, pensati, più volte, vento di mare, che posti con te, spiranzi sperati, e a menti passati, di dulzi, zorrati, e logori, scolpiti, ventizeglio di mare, che tal silizieri, bramato, e gradito, allivian di calori, di soli, di stio, e dendi con soli, intanto regali, spiranzi, mai spinti, di per di domani. di verità, beh, questa è una zona, entosa, per ordinare, no? Sì, stai, e la pide, come te, questa è bella zona, vero? Eh? È una bella zona, di sumare. No, siamo contenti di staccare, Eh, beh, certo. se tu che io mi dici, se dammi dici, mi piace stavo di soli, ecco. Eh, è una cosa bella, capisci a nascita in cui, e bischi il giallo, sa cosa, come te, come te, di una. Vero, vero, eh. Eh, bene, ciò, ne teniamo soltanto, poi, so, beh. Ah, pensa a babbo, ah, penso a babbo, e la mente mi tragina, in legamini di lamenti più coati, a menti gari, così in fondo coati, tanto di gridilli smenticate, e torro, minureda, minureda, avvidimmi, correndo incontro a babbo, e il stracco, stracco, torrendo dallo travato. Dopo, allo fresco della sera, posati, loiannini a riposar, e imbrazza il, l'ome posto era, ero un'abitudine consueta, dulzi, tenera d'amore, e le sovrazzi, mi sentia protetta. Chissi momenti erano importanti, pal me, e pa'ido più ancora, da all'ongo, la gioia trasparia, palchi lugori, contento aia. A pensarvi, lui concorava, cu un mezzo sorriso d'allegria, l'occhi umitate d'emozioni, e luguri, mi tocca, scitendi, nostalgia. Nostalgia, eh, becchiericoso buro, Giovanna, scusate, ma per la pena, mi ha detto, loco, per i dirci, quando vedi le aziende, sa buzia, Giovanna, ma non succedi, eh, eh, non mi dico tanto, sinceramente, però, da che dire, di sud uscio, per il chilometto, che ha già visto al male, vero è? Eh, ma è normale, no? Va bene, domani, scusa comunque, tutto a mano, se è minore, va bene, così. Bene, bosca da metà, di domenica, la Madonna, se ringrazia, sinceramente, dalle 19.30, stai domenica in onda, eh, con un aro, abbai dato, la capita scusa, e adesso, dai, Federico, dai, in Orabona, scusami, non è scusa male, però, che ho toso, e dai, Franco Cassi, lo saluto, caramente, questa brava azienda, mi dico tanto, telegis, la televisione, dettate, una bella fortissione, sinceramente, intatta, sapate, con le sali grazie, una cosa, che mi dico tanto, scusatemi, che mi ha bagliato, questa bulla, come, non è scusa male, però, mi dà fastidio, mentre, che sono azzelli, questa cosa, bene Giovanna Maria, abitete, per lei, ti scaricata la poesia, mi ha rischiesto, vediamo un'altra, e ci resta un'altra, no, non lo so, per che tempo vi sia, tu, non ti prego, per lei, letta, la poesia, eh, è tanto di un progista, dai, e lei, ti gusta tanto, morali, secondo me, va bene, come te la morale, intendi, morali, è cosa, chi non si idi, ma si senti, non si tocca, che ne avvolma, e che ne aspetto, la sere, il luto cori, e il lato menti, che si no, di certo, se in difetto, esci ora, da una storia, bella o brutta, ti porta, riflettì, e ragionà, si li dai, l'impultanzia, che è dovuta, comprendi, che non te faccia, le sbagliate, ti impara, a campare, con più saiesa, a rispettare, ogni persona, per lo che, punì, pazienza, a superare, tanta amarezza, causata, da qualcuno, come te, e chissà, chi considera, tollerà, tanti cose, che andano, in riesce, si pone a ficco, si pone a ficco, van di piano, a giudicare, e ti impidi, di vali, facchi essi, è l'impegno, che l'anima, vi pone, a zilcarla, e utilizzarla, per fare bene, ti frena, e ti porta, a buone azioni, che consolano, al tiguri, ma più a te, bella, bella, un'altra bella, poesia, Giovanna Maria, de Mela, come ti chiedono, una cosa, Mela, siamo finiti, questa serata, te ringrazio, da casa, torna di burro, che a nessun momento, farei, da te ringraziare, a marito, che l'ha fatto compagnia, e una, tra femmina, la signora Pasquina, Pasquina, e Mario, tu hai tizionata, Salvatore, Salvatore, ma la potevo andare, da te, per rischiere, lo saluto caramente, che sono vicino a me, e vicino a te, saluto a chi, anche per il capo, allora, io voglio salutare, intanto, tutti gli sassaresi, visto che sto con Sassari, ecco, visto che sto con Sassari, no? Va bene, va bene. Allora, agiti pazienza, come ti è usciuta, è usciuta, no? Cosa voglio a dire? Aglio di ringraziare, Alfredo, Niedo, che ogni volta, mi ospita, con tanta gentilezza, e cortesia, e poi, anche lo staff, del Tlg, del Tlg, siamo diventati quasi amiche, va bene. Bene, ci ha fatto, sono contento, sinceramente, come stanotte, da canna, sono andato a Badesi, va bene, su computer, te le tiglie, sono andato, ci sono andato a Badesi, sono andato a Badesi, sabato della sera, tranquilla e pacifica, è vero, va bene così, ti ringrazio Giovanna, ecco, saluta Pietrina, Toglia, e saluti a Cambrile, a Canomidi, va bene, bravo, bravo, bravissimo, a Badesi, ciao, ciao, bene, abbiamo sentito Giovanna, e devo saluto a tutti, a Manose Minore, che ha potuto telefonare, che ha potuto telefonare, poi ha parlato, per esempio, non biedere in tutto, su un'intreo, però devi da fare, www.tlg.tv, questa è una cosa bella, sinceramente, non chiedere in tutto, su un'intreo, Alfredo, io ringrazio da tutto, a Mani, a Minore, però ringraziare, come andiamo a salutare, a chi mi fa, che sa regia, a Valeria, a Maria Speranza, Giuseppe del Canto, che mi fai piacere, sempre, di andare da inanti, però, perché ho da mentare, la mia donna, sarà grazie, domenica, non puoi nemmeno, che è, la siamo in diretta, abbaidatele, che puoi piacere, dai, dal 19, al 30, questo, domenica, dai, Federico, e dai, dai, Franco, chiesa, sinceramente, buon abbraccio, buon ringrazio, con Alfredo Uniedu, con sa sigla, che mi ha piacere, canta, e a Benes, la trasmissione, sul sorballosalto, del Fredo Uniedu, cano Lappo, battizzata Lappo, battizzata, allegra Goro, buonanotte. buonanotte.